Dalla gara di Gavardo del 2 giugno al ritiro di Borno nella speranza di poter dar vita nuovamente ai corsi estivi. Accantonato anche per quest'anno il Memorial Salvetti, ecco gli obiettivi a breve termine di AS di Movida. Il 2 giugno era inteso come festa di tutte le ginnaste, anche dei corsi base, per cui non potendoci confrontare con loro, non mi sembrava opportuno proporlo. Poi coincide proprio, è in via ufficiosa con la gara vera e propria, cioè nel senso scontro diretto di tutte le atlete, quello sarà bellissimo per poterci anche rivedere con le altre società. E quindi sarà probabilmente il 2 giugno a Gavardo e quindi promossa dalla società Daphne. Volevo solo accendere il fatto che quest'anno, salvo imprevisti proprio che le cose dovessero proprio volgere al peggio, il ritiro dell'agonismo a Borno si svolgerà e quest'anno avremo la società di Sarezzo che si gemellerà con noi, per questo che mi interessava sottolinearlo, con ben 16 atlete per cui ci confronteremo con un'altra realtà e questo è importante per crescere e migliorare sempre. Per cui l'appuntamento dell'estate e se sarà possibile ci saranno anche qui i corsi estivi come abbiamo fatto l'anno scorso, visto che giugno riapre, anche perché abbiamo fatto ulteriori investimenti con la tapezzatura idonea e quindi le ragazze lavoreranno ancora maggiore in sicurezza.